Prete sorpreso a spiare le ragazze della pallavolo, l'uomo a un quarantenne si sarebbe scusato per l'accaduto. Operazione della DIA Roma ha interessato anche l'agrigentino. Attenzioni puntate sul caro Bollette. Gela evade dai domiciliari fermato un giovane. Esercitazioni, l'impegno dei volontari nisseni del gruppo di protezione civile dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato. Stadio Tomaselli, il punto della situazione. Bonus ai dipendenti fino a 600 euro senza imposte anche per le utenze domestiche. Omaggio ai carusi di Gesso Lungo 1881, diversi appuntamenti in programma. Pedi Pedi, stasera alle 21 su TFN. Bentrovati. Prete sorpreso a spiare le ragazze della pallavolo, l'uomo a un quarantenne si sarebbe scusato per l'accaduto. Il servizio. Un sacerdote sarebbe stato sorpreso a spiare alcune ragazze che si erano ritirate all'interno dello spogliatoio al termine della seduta di allenamento. L'episodio si sarebbe verificato a Caltanissetta, dove un passante si sarebbe accorto di quanto stava accadendo e avrebbe chiamato le forze dell'ordine. Intanto da carabiniere e polizia non trappella nulla sull'episodio. A quanto pare il prete avrebbe ammesso la sua colpa, giustificandolo come un momento di assoluta debolezza, chiedendo più volte scusa per l'increscioso episodio. Il fatto sarebbe avvenuto nel capologo Nisseno, al Palacannizzaro, nella zona di Pian del Lago, dove quasi ogni sera si allenano la squadra di pallavolo e di basket. Secondo una prima ricostruzione, il sacerdote di circa 40 anni sarebbe stato visto sopra una sedia intento a spiare dentro lo spogliatoio. A notarlo sarebbe stata una persona che passava da lì nel parcheggio vicino all'impianto sportivo. Le forze dell'ordine accorse immediatamente sul posto avrebbero identificato l'uomo, si tratterebbe di un sacerdote noto in città. Quest'ultimo, con forte imbarazzo, si sarebbe poi allontanato. Non si escludono ulteriori sviluppi. Sulla vicenda del prete guardone nessun commento da parte della diocesi Nissena né da parte della società sportiva e il servizio. Potrebbe sembrare una scena dei film della commedia italiana della fine degli anni 70, ma a quanto pare si tratterebbe di realtà. L'amore per lo sport, e nello specifico della pallavola a tinte femminili, avrebbe portato un uomo a spiare fin dove non poteva spiare. L'uomo in questione di professione e vocazione sarebbe un sacerdote. Sarebbe stato sorpreso a spiare lo spogliatoio delle ragazze, con dinamiche ancora da chiarire. Al momento, dalla curia vescovile della società sportiva interessata non trapela nulla, ma non si registrano neppure smendite. Abbiamo provato a contattarli, ma al momento solo no comment. La passione del protagonista della vicenda per la pallavolo sarebbe andata molto oltre, quando avrebbe deciso di sfruttare una buona posizione di osservazione per guardare dentro lo spogliatoio al termine dell'allenamento. Occhi indiscreti che sarebbero stati notati da qualcuno. Così sarebbe scattata la telefonata alle forze dell'ordine. Sono passate poche ore per la diffusione della notizia. Ora in città non si parla di altro, nei bar per strade e l'ironia nei social network è passata in primo piano. Passiamo adesso ad un'operazione della Direzione Investigativa Antimafia a Roma che ha interessato anche la provincia di Agrigento. Una vasta operazione della Direzione Investigativa Antimafia è in corso fra Roma e provincia, nel Lazio e nelle province di Cosenza e Agrigento, per dare esecuzione a 26 misure cautelari nei confronti di altrettante persone e a un sequestro complessivo di 100 milioni di euro. In totale sono state poste sotto sequestro 25 società. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione mafiosa, sequestro di persona e fittizia intestazione di beni. Nella fattispecie si tratterebbe di un'associazione per delinquere di stampo mafioso, costituente una locale di indrancheta radicata sul territorio della capitale, finalizzata ad acquisire la gestione o il controllo di attività economiche in diversi settori, facendo ricorso poi a intestazioni fittizie per schermare la reale intitolarità delle attività. Sarebbero numerosi settori commerciali coinvolti, da quello ittico alla panificazione, dall'ambito delle pasticcerie al ritiro delle pelli. Fra le 26 misure cautelari firmate a carico di altrettanti indagati, la DIA di Agrigento ha rintracciato e bloccato un 22enne di Canicattì. Si tratta, secondo quanto emergerebbe, di un giovane che non è collegato agli ambienti mafiosi dell'Agrigentino. L'organizzazione di matrice andranghetista si riproporrebbe, secondo quanto ricostruito dalle indagini, anche il fine di commettere delitti contro il patrimonio e l'incolumità individuale, affermando il controllo egemonico delle attività economiche sul territorio. Le indagini sono il seguito delle 43 misure cautelari eseguite lo scorso 10 maggio, che avevano messo in evidenza la presenza dell'andrangheta sul territorio del Comune di Roma. Secondo gli inquirenti, a capo della struttura criminale c'erano Antonio Carzo e Vincenzo Alvaro, legati a famiglie di indrangheta operanti nella zona di Cosoleto, in provincia di Reggio Calabria. In base a quanto accertato dai PM di Roma, coordinati dagli aggiunti Michele Prestipino e Elaria Calò, le attenzioni del clan erano finite anche sul business della ristorazione dei bar. Attenzioni puntate sul carobollette, rincari anche del 300% per imprese e famiglie. Sul tema, l'intervento di Annalisa Petitto, consigliere comunale, è anche la dichiarazione sull'argomento del sindaco Roberto Gambino. Il carobollette è uno dei problemi che in questo 2022 vede famiglie di imprese affrontare gli aumenti del costo dell'energia, che in alcuni casi ha toccato anche quota del 300%. L'inflazione sembra non arrestarsi. Sul tema rincari, a presentare una mozione a Palazzo del Carmine, è stata la consigliera comunale del PD, Annalisa Petitto. Il carobollette è un problema anche e soprattutto della città di Caltanistetta e dei Nisseni. Siano essi le famiglie più disagiate, sia i commercianti. Io ritengo che l'amministrazione dovrebbe predisporre delle manovre di bilancio, ovviamente nei termini di legge, intanto pensarci poi ad operarsi facendo delle manovre di bilancio, stanziando di conseguenza dei fondi a sostegno delle famiglie più disagiate e dei commercianti. E intanto proprio sulla questione crisi energetica, il sindaco Gambino dichiara. La guerra energetica che in questo momento stiamo sopportando, perché noi la sopportiamo mentre altri la combattono, ci porterà sicuramente a dei problemi enormi, sia a livello di famiglie, sia a livello di aziende, sia a livello di bilancio comunale. Perché bisogna dirlo con forza, l'aumento delle bollette andranno a incidere su bilanci familiari, andranno a incidere sulla condotta delle aziende, perché questo è importante, perché se le aziende iniziano a chiudere poi finisce anche il lavoro, ma andranno a incidere sui bilanci comunali, perché io voglio ricordare a tutti quanti che il Comune paga le bollette, giusto per dare il termine giusto, per l'illuminazione pubblica e per il riscaldamento delle scuole e per l'illuminazione all'interno di tutti i locali, che sono di competenza del Comune, quindi parliamo di tutte le scuole della città, quindi escluso le secondarie. Questo per noi sarà un impegno notevole e già da solo si presuppone che sarà per cinque volte più alto rispetto a quello dell'anno scorso, per cui le risorse di bilancio vanno cercate in quella direzione, perché sicuramente sono servizi essenziali che non possono essere né ridotti né interrotti. Passiamo adesso a Gela. Evade dai domiciliari, è stato fermato un giovane dagli agenti della squadra investigativa del commissariato. Evade dagli arresti domiciliari, ma ci ritorna nel giro di poche ore, finendo in arresto. E dunque nuovi guai per un giovane gelese di 29 anni, che è stato colto in flagrante dai poliziotti del commissariato della città del Golfo. Gli agenti hanno infatti sorpreso il giovane mentre girava per le vie della città a bordo del proprio ciclomotore, nel tardo pomeriggio di martedì. Una volta riconosciuto il conducente del mezzo a due ruote, i poliziotti non hanno perso tempo nell'imporgli l'alt per eseguire tutti i controlli del caso, dai quali è emerso che l'uomo era già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e quindi avrebbe dovuto trovarsi in casa e non in giro per le vie del centro storico cittadino. Di conseguenza la procura di Gela ha disposto l'arresto del giovane con una nuova applicazione degli arresti domiciliari e una volta completati gli accertamenti in commissariato, il 29enne è stato nuovamente condotto a casa sua. Ora si attende che venga chiusa l'indagine e poi si passerà alla fase processuale. Il caso Gela vede l'intervento da parte della CGL dopo gli ultimi fatti di cronaca. Il servizio? Il costante incremento di atti criminali e di violenza perpetrati nelle comune di Gela continua a preoccupare le istituzioni della provincia nissena. In quest'ottica deve essere interpretato il comunicato della CGL che nell'esprimere preoccupazione ricorda come non ci si possa permettere che l'attuale situazione diventi pretesto per repressioni. Non cadiamo nell'errore, non diventiamo complici di chi vuole abbattere questa terra con atti violenti e criminali, recita la nota. Abbiamo visto e constatato con orgoglio e grande rispetto il lavoro e l'impegno di tanti cittadini che hanno portato la città di Gela agli onori delle cronache nazionali e internazionali, grazie ai tesori che custodisce e che è in grado di divulgare e condividere con tutti. La segretaria generale della CGL, Rosanna Moncade, inoltre continua sottolineando la presa di posizione delle nuove generazioni. Le centinaia di giovani che hanno manifestato per le strade della città in segno di protesta per rivendicare un territorio libero dalla criminalità e da ogni tipo di omertà è la dimostrazione che questa terra è ricchissima di giovani che non vogliono rassegnarsi e vogliono contrastare ogni forma di violenza e di rassegnazione. Il recupero di un territorio, la sua salvaguardia in termini di sicurezza sociale, conclude, devono necessariamente passare dalla famiglia, dalla scuola, dal mondo del lavoro e diventare patrimonio comune. Parliamo adesso delle esercitazioni, l'impegno dei volontari in i seni del gruppo di protezione civile dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato. Nello scorso fine settimana si è concluso a Villafranca Tirrena, in provincia di Messina, la tre giorni di esercitazioni ex esisma dello stretto 2022, che ha visto in campo tutto l'imponente sistema di protezione civile nazionale e 2.500 volontari soltanto in Sicilia. Alle esercitazioni erano presenti anche i volontari del gruppo di protezione civile dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato, sezione Calogero Zucchetto di Caltanissetta. Tutti i volontari hanno contribuito sinergicamente per il raggiungimento degli obiettivi, primo fra tutti testare la capacità di risposta della protezione civile regionale. I volontari dell'AMPS di Caltanissetta e il suo nucleo cinofili attualmente è primo e unico del Sud Italia, che nello scenario riservato gli ha dimostrato grande professionalità. Il volontario Giuseppe Laspisa ha donato all'AMPS di Caltanissetta i due splendidi volontari a quattro zampe, Enzo e Lola. Venerdì 4 novembre siamo partiti alle 4 e mezzo alla volta di Dittaino, dove si è costituita la colonna mobile che poi sarebbe partita circa 150 mezzi alla volta di Messina, che era la zona dove si presumeva dovesse esserci il sisma. L'esercitazione infatti si chiama Exemessina 2022. L'ipotesi è quella di un sisma disastroso, ovviamente, che interessa la Calabria e la Sicilia, con il probabile origine anche di uno tsunami. E' stato mobilitato l'intero sistema di protezione civile, quindi marina militare, relativamente allo tsunami, forze dell'ordine, croce rossa, vigile del fuoco numero uno e i volontari. La Sicilia ha risposto in modo straordinario perché ha mobilitato circa 2.500 volontari, circa 400 mezzi, poco più poco meno, in otto campi dislocati sul lato dello Ionio e sul lato del Tirreno. Noi eravamo a Villafranca Tirrena, lato Tirreno. Lì abbiamo operato negli scenari che avevano individuato il Dipartimento di Protezione Civile. Due mesi, dopo due anni di addestramento, abbiamo brevettato i due nostri border colli, sia io che il mio collega Vincenzo Scalise, che è un altro conduttore, con Michele Ferla, l'altro conduttore ancora, sempre di border colli, abbiamo specializzato e brevettato i cani per la ricerca in superficie. I cani saranno a disposizione ovviamente delle questure, delle prefetture, dei comuni in caso di necessità e di urgenza. Stadio Tomaselli, il punto della situazione, l'intervento del Presidente della Federazione Italiana Pesistica, Salvatore Parla. La questione Stadio Tomaselli tiene sempre banco. La domanda adesso che chiedono i cittadini e gli addetti ai lavori è quando riaprirà lo stadio. Il progetto prevedeva un intervento per la realizzazione di un imbiando sportivo polivalente, nel particolare il rifacimento del fondo campo in mando di erba artificiale, finalizzato al miglioramento dell'imbiando sportivo per la pratica sportiva di calcio e rugby. La DLF Nista Rugby non si è iscritta al campionato e la Nissa continua a giocare le sue partite casalinga al Palmindelli. Nel frattempo, oltre a mozioni consigliari, anche i cittadini aspettano notizie in merito sull'apertura dello stadio. Ieri si è aggiunta la nota di Salvatore Parla, presidente del Comitato Regionale FIPE Sicilia, dove ha espresso tutta la sua solidarietà alla DLF Nista Rugby che per la questione stadio sono stati costretti a rinunciare al campionato maschile di Serie C regionale. Nella sua nota, il presidente FIPE, oltre alla solidarietà nei confronti della Nista Rugby, dichiara che la problematica di essere definiti sport minori nonostante i risultati raggiunti e le iniziative come adottiamo il Tomaselli, quando entrambi abbiamo provveduto solo con i nostri lavori a ripulire la struttura e renderla vivibile, non venga presa in considerazione. Conclude Parla che non giudichiamo e addossiamo responsabilità a nessuno. Però questa vicenda del Tomaselli, senza che l'amministrazione intervenga in maniera efficace e risolutiva, lascia davvero perplessi. Progetto per la mobilità sostenibile a Caltanissetta. Sentiamo. La città farà un altro passo avanti verso la mobilità sostenibile tra le diverse iniziative infatti che guardano in questa direzione si aggiunge un altro tassello, grazie al progetto Cicli Solidali finanziato da Fondazione con il Sud. Un progetto che parte da una rete di soggetti, tra enti, associazioni e cooperative e che diventerà realtà in circa tre anni nel territorio interno della Sicilia, tra Caltanissetta ed Enna, coinvolgendo anche Calascibetta, Villa Rosa, San Cataldo, Valguarnera, Caropepe, Delia e Sommatino. Attraverso i cicli a pedalata assistita e dunque una sensibilizzazione verso il loro maggiore utilizzo e sul loro minore impatto economico e ambientale, si pensa anche al fine educativo, con iniziative nelle scuole e alla solidarietà con la possibilità di distribuire farmaci, ad esempio, o cibo a chi ne ha necessità. È stata fatta una rete, una rete che contempla i due comuni capoluogo, quindi quello di Enna di Caltanissetta, questo CEA, il CEA Alexander Humboldt, lega ambiente di Caltanissetta, poi c'è la cooperativa Etnos di Caltanissetta, la cooperativa Aleteia di Enna e anche il CRAS di Enna, quindi una rete che ha presentato un progetto sulla mobilità sostenibile ed è il risultato vingitore questo progetto di cicli solidali, che bene si inserisce con le altre progettabilità realizzate dal comune di Caltanissetta di Enna, agenda urbana o le piste ciclabili che si stanno realizzando in entrambi i capoluoghi. Questo progetto prevede la realizzazione, a fronte di un progetto di circa 400 mila euro, prevede la realizzazione di due ciclofficine, una Enna bassa e una Caltanissetta, ciascuna dotata di 22 cicli, biciclette a pedalata assistita, in realtà un paio sono dei cargo perché serviranno per portare i prodotti solidali nelle stradine più strette dei centri storici. Queste due ciclofficine hanno ricevuto questo finanziamento per tre anni, ogni ciclofficina darà lavoro a tre persone. Queste biciclette serviranno una parte per essere affittate ai turisti, per realizzare dei tour in bicicletta, per incentivare sempre di più la cittadinanza, le persone a andare in bicicletta con questa mobilità lenta e sostenibile. Il progetto prevede la realizzazione di formazione nelle scuole, giornata tipo di utilizzo di questa bicicletta, la ciclofficina sarà a servizio della città a prescindere dell'utilizzo meno delle stesse biciclette. È un progetto molto bello, ripeto, che si inserisce bene con l'idea di mobilità sostenibile che abbiamo. Caltacqua fa sapere che le squadre di Aqualia SA hanno concluso l'installazione di 1531 nuovi moduli radio per la telelettura dei consumi idrici nel comune di Milena. Tecnici al lavoro già da alcuni giorni nel comune di Resuttano, dove è stata avviata la posa in opera di 1145 moduli radio, sempre per gli interventi finanziati dal Ministero delle Infrastrutture. Il cronoprogramma dei lavori prevede il completamento delle operazioni di posa in opera dei moduli radio per la telelettura e per il monitoraggio dei consumi da remoto in tutti i comuni della provincia di Caltanissetta entro il settembre 2023. Parliamo adesso del bonus dipendenti fino a 600 euro senza imposte anche per le utenze domestiche. In una circolare dell'Agenzia delle Entrate, le regole sulla nuova disciplina del welfare aziendale. Con una circolare l'Agenzia delle Entrate ha comunicato alle istruzioni per i dattori di lavoro che intendono erogare ai propri dipendenti sommo rimborsi per contenere il costo di energia elettrica, acqua e gas naturale. Il decreto aiuti bis infatti ha innalzato per il 2022 fino a 600 euro, al posto degli ordinari 258,23 euro, il limite entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti i beni e servizi esenti da imposte, includendo anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche. Per il 2022 sono incluse tra i fringe benefit concesse ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche. In questa direzione, la circolare numero 35 dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che per utenze domestiche si intendono quelle relative a immobile ad uso abitativo, posseduto o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dei suoi familiari, a prescindere che vi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio. Vi rientrano quindi anche le utenze per uso domestico intestate al condominio e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell'immobile, nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfettario, a carico del lavoratore locatario o del proprio coniuge e familiari. Rientrano tra finici benefit, infine, anche beni ceduti ai servizi prestati dal coniuge del lavoratore, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi. La valorizzazione dei borghi e delle periferie è affidata anche alla creatività degli studenti, punta così al rilancio, alla tutela e alla valorizzazione dei siti minori, alla rigenerazione delle periferie urbane, l'iniziativa della regione siciliana, che ha destinato 58 mila euro del bilancio 2022 alle istituzioni scolastiche che presenteranno progetti per la valorizzazione dei luoghi identitari e per rafforzare il tessuto sociale del territorio. È questo quanto si legge in una nota della regione, una circolare firmata dal dirigente generale del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'identità siciliana, Franco Fazio, che invita le scuole dell'isola a collaborare a questo obiettivo, individuando un borgo della propria zona per approfondire le origini e divulgare la conoscenza del luogo. Ogni istituto potrà presentare il proprio progetto formativo al Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'identità siciliana. Ed ora parliamo dell'omaggio ai Carusi di Gesso Lungo del 1881. A Caltanissetta saranno diversi gli appuntamenti in programma nelle giornate che vanno dall'11 al 13 novembre. In previsione della giornata regionale in memoria delle vittime delle miniere, ovvero il 12 novembre, un omaggio ai Carusi di Gesso Lungo, che morirono nel 1881, sarà realizzato con un programma di appuntamenti curati dall'assessorato alla cultura e dell'associazione Piccoli Gruppi Sacri, frutto di sinergie del territorio che vanno dalle associazioni alla diocesi e al comune. La motivazione è da rintracciare nella grande volontà che si è avuta in città tra varie associazioni, in particolar modo la mia, l'associazione Piccoli Gruppi Sacri, l'amministrazione comunale, ma anche la diocesi, cioè quella di dare continuità a quanto è successo lo scorso anno. Lo scorso anno c'è stata una proposta al Presidente della Regione, all'epoca musulmece, di istituire una giornata della memoria per i caduti in miniera. Questa data è stata identificata proprio nel 12 novembre, che è la data 12 novembre 1881, quando ci fu l'esplosione a Gesso Lungo e morirono la città ebbe tante perdite, compresi tanti Carusi. Lo scorso anno è stata istituita questa giornata, sono stati fatti degli eventi, e per cui a distanza di un anno questo serbatoio è stato riempito con degli eventi, alcuni dell'amministrazione, alcuni dell'associazione Piccoli Gruppi Sacri, alcuni della Curie. All'evento in cattedrale si rappresenterà a Pinuccio, che è la storia di un bambino di miniera. Alle mie spalle abbiamo una delle varie volute da minatori di Gesso Lungo, che diedero l'Incipit alla Settimana Santa, e in particolar modo volevo invitare anche i Nisseni, giorno 12, dove ci sarà, tra virgolette, una messa, chiamiamola ufficiale, di memoria, forse appunto la memoria di Gesso Lungo. Proprio l'11 novembre ci sarà alle 9.30 a Palazzo Moncada il convegno sulla tutela della valorizzazione e la fruizione del patrimonio minerario culturale siciliano. Alle 16 nella Chiesa San Giovanni una giornata di studio a cura dell'ufficio diocesano Cultura e Comunicazioni Sociali della Chiesa Nissena nel mondo della Solfatara. Alle 20 in cattedrale lo spettacolo Pinuccio con Aldo Rapè e le musiche dal vivo di Zaffara. Infine il 13 novembre al Margherita Don Gesualdo con la regia di Lorenzo Muscoso, le musiche di Riccardo Gerbino e l'interpretazione di Alessandro Asparacino. E si parla di arte con Nisa Artistic Vision a Caltanissetta. Dal 10 al 27 novembre sono 26 le opere di altrettanti artisti contemporanei a Palazzo Moncada e all'ex rifugio di Salita Matteotti il servizio. Nis Art e Artistic Vision è la mostra che sarà presente a Caltanissetta dal 10 al 27 novembre. 26 le opere di altrettanti artisti coinvolti che potranno essere ammirate a Palazzo Moncada e all'ex rifugio di Salita Matteotti, un progetto espositivo che nasce dalla collaborazione tra Viverto Biennale, Federico II Eventi e Valisa Le Dimore della Cultura insieme all'amministrazione comunale di Caltanissetta e l'assessorato della cultura. Creare emozioni attraverso il segno, attraverso il colore, attraverso l'immagine, attraverso il significato di ogni opera esposta che possa toccare l'interesse di chiunque possa venire a vedere questa mostra. Sono quasi 100 opere con cui si può dialogare, dialogare con l'anima come si suol dire, il linguaggio dell'arte è il linguaggio muto ma è il linguaggio del colore e il linguaggio del cuore. La ricerca delle ragioni dell'arte, la sua visione intuitiva, le emozioni che suscita sono oggetto dell'esposizione che vede questi 26 artisti coinvolti in molti riferimenti alla donna nelle opere e sotto tema cercato per omaggiare la città delle donne. La rassegna internazionale di arte contemporanea coinvolge artisti italiani, argentini, greci, palestinesi che declinano l'arte attraverso la pittura, la scultura, la moda e tutte queste espressioni confluiscono in un unico grande messaggio che è quello di promozione della pace e della fratellanza. Avere dato il patogine ad una mostra di arte contemporanea apparentemente esula dalle competenze della soprintendenza però quando c'è una condivisione di intenti come in questo caso finalizzata non solo a valorizzare l'arte ma anche a valorizzare dei beni storici come il nostro Palazzo Moncada che giustamente il sindaco ha definito il Palazzo per eccellenza, la soprintendenza è sempre a fianco di chi vuole attivare questo genere di operazioni di carattere culturale. La mostra sarà quindi visitabile dal lunedì al sabato dalle 10 del mattino alle 13, dalle 17 alle 20. Venerdì 11, nuovo appuntamento della settantesima stagione concertistica Amici della Musica di Caltanissetta, un evento in programma alle 18.15 nell'auditorium del liceo musicale Manzoni-Giovara di Caltanissetta con ingresso libero che vedrà protagonisti il duo Hermes Project pianoforte e violino formato dai maestri Mirko Gangi e Martina Vacca. Un programma dal concerto innovativo ispirato alla Sicilia e ai compositori contemporanei tra i quali Marco Betta, Giacomo Cuticchio, Andrea Ferrante, Nunzio Ortolano e Gaetano Randazzo per poi concludere con un omaggio ad Astor Piazzolla. Questa è edizione del nostro telegiornale, termina qui, vi lascio al meteo e alle informazioni di pubblica utilità. Rimanete con noi. Un saluto a ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì la perturbazione giunta sulle regioni settentrionali tenderà a muoversi verso il nord-est influenzando il tempo anche dell'alto versante terrenico, ma comunque le precipitazioni andranno esaurendosi anche grazie all'imporsi di questo campo anticiclonico proprio sull'Europa centrale, quindi pressione in aumento nel corso della giornata. Per quanto riguarda la mappa della nuvolosità, notiamo come gran parte del centro nord Italia si ha le prese con le nuvole, nuvole che poi interesseranno anche il sud, ma qui con clima che rimane asciutto. Infatti, osservando lo zoom delle precipitazioni, avremo una giornata asciutta su gran parte del centro sud, mentre le piogge rovesci tenderanno a insistere inizialmente sul nord-est e l'alto versante terrenico. Più nel dettaglio quindi della previsione attesa sul nostro paese, avremo una giornata di giovedì con tempo che andrà migliorando al nord-ovest, instabilità invece sulle Venezia e sull'Emilia Romagna, ma anche sulla Toscana con piogge rovesce, anche qualche temporale sulle coste toscane. Situazione comunque anche qui in miglioramento nella seconda parte del giorno, mentre sul resto del centro sud la situazione vede un tempo abbastanza nuvoloso, ma con clima che resta asciutto. Tutti i dettagli comunque li trovate sull'app di Trebi Meteo.